Vittoria fondamentale contro un'Australia forte 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 Sì, un'Australia che spesso ha preso questo torneo perché gioca veramente molto forte Siamo stati bravi di giocare di squadra e di portarci a casa questa vittoria molto fondamentale per proseguire bene in questo torneo Senti, va bene il caldo, va bene la fatica, però vincere così forse vi dà qualcosa in più dal punto di vista mentale per affrontare la Serbia domani Sicuramente è una bellissima vittoria e ci dà tanto Ci fa esperienza soprattutto, dobbiamo anche imparare un po' dagli errori che abbiamo commesso Dobbiamo commesso qualche imprecisione, però adesso dobbiamo essere umili, pensare a domani perché sarà ancora più tosto Fondamentale anche il tuo ingresso in campo oggi? Scusa? Fondamentale anche il tuo ingresso in campo oggi? Ma guarda, credo che siano fondamentali tutti i giocatori della Nazionale Giochiamo in 14 e quindi è entrato anche Nello, Nelli, ha fatto molto bene Quindi guarda, siamo una bella squadra, ci divertiamo moltissimo e questa è la cosa più importante Senti, credo che avete un po' cambiato, forse nel quarto set avete cambiato marcia, vi avete messo in difficoltà Avete finalmente cominciato a giocare con continuità, non penso Prima è quella che vi era mancata Sì, diciamo che Direi che per prima cosa dobbiamo sistemare il fondamentale della battuta che abbiamo sbagliato troppi Facendo giocare un po' di più l'avversario, secondo me, anche per noi sarà più semplice